Gentili telespettatori, buona giornata. Un altro incontro Berlusconi-Salvini. Che ci avranno da dirsi in tutti questi incontri? Non lo si è ben capito. C'è il tema delle amministrative, ma il tema delle amministrative se ne discute anche con Giorgia Meloni. Quindi questi incontri sono fatti per parlare solo di una federazione all'interno del Parlamento dove con uno speaker si dice tutti insieme la stessa cosa? Tutti questi incontri tra Berlusconi e Salvini solo per una federazione che non interesserebbe a nessuno? E il fatto è che l'obiettivo è la fusione dei due partiti. Perché il Berlusca vuole regalare Forza Italia a Salvini in cambio della sua elezione a capo dello Stato. Questa è la realtà. Passi avanti, non passi avanti a pedalare, ma passi avanti nella definizione della federazione di centrodestra nell'incontro cordiale tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore. Dopo aver scambiato qualche battuta sulla partita della nazionale sul Milan hanno affrontato il tema principale che era proprio quello della federazione. Ma anche altri temi dicono riforme, situazione del governo Draghi, immigrazione. A proposito del futuro del CDX centrodestra, hanno convenuto sull'esigenza di una sempre più stretta collaborazione tra Lega e Forza Italia. L'obiettivo è rendere ancora più efficace l'azione comune in Parlamento. Passi avanti nella definizione della federazione auspicata da Salvini e di conseguenza lungo la strada del partito unitario che Berlusconi immagina in vista del 2023. Il tema delle amministrative sarà affrontato nei prossimi giorni. Però io comincio un po' a confondermi, non so voi. Salvini diceva Facciamo alla fusione dei partiti. Poi ha detto qualche giorno dopo No, nessuna fusione, non giova a nessuno, non porta a nessun risultato. Perché poco prima diceva Facciamo prima la federazione e poi entro fine del 2023 Facciamo la fusione. Poi dopo qualche giorno dice No, la fusione non serve a nessuno. Una cosa è la federazione, la fusione non serve. Ok, dopo qualche altra ora Dice Sì Stiamo costruendo un percorso Per fare un partito unitario con Berlusconi Che cos'è un partito unitario? La fusione La fusione come il PDL Pertanto a volte non riesco più Mi perdo Sì, no, sì, no, sì, no Dice cosa ha detto? Non lo so Ha detto sì, no, no, sì Quindi ognuno poi è libero di credere quello che gli pare Dice Salvini ha detto sì alla federazione e no alla fusione Sì Salvini ha detto sì anche alla fusione Sì, no Secondo quello che volete pensare Perché realmente io mi sono perso Perché nell'arco di dieci giorni È stata cambiata idea almeno quattro volte Certo il cambiare idea non porta giovamento ai partiti Il leader dovrebbe avere una linea È questa Se cambia il contesto Se cambia il contesto dove matura quella linea Allora quella linea può cambiare Ma se il contesto è sempre lo stesso Immobile E tu cambi Un giorno sì, un giorno pure Non dai all'elettorato Quel sentore di affidabilità Dice cosa pensa il vostro capo politico Su questo argomento Ieri ha detto sì, oggi no Domani forse dirà di nuovo sì Non lo so, non mi sbilancio Aspettiamo a vedere cosa succederà domani Ecco Perché adesso anche voi sarete confusi Si farà la fusione, la federazione confusione E voi direte Boh, che ne so, se capito più niente Questa è la realtà Questa cosa zigzagare disorienta L'elettore Che si sente poi smarrito E a volte cambia partito Eh? Questa è la realtà Ma intanto Quello Berlusconi 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 dice Io ancora in campo E intendo rimanerci Così il leader azzurro All'iniziativa Italia ci siamo Che si rivolge agli alleati Costruire da qui al 2023 Il partito unico Ecco Io manco gli rispondo più Perché l'ho già detto Che non mi interessa Ecco Giorgia Meloni Non sta più neanche a rispondere Se avete notato Berlusconi proprio ieri Ha fatto l'invito Anche a Meloni Eh Meloni Salvini Dai che ci dobbiamo Fare una bella fusione Eh? La risposta di Meloni È stata Nessuna risposta Dice basta Non gli rispondo più Io glielo ho già detto In tutte le forme In tutte le salse Glielo devo dire in che? In una lingua marziana Non gli ha più risposto E ha fatto bene Nel senso Berlusconi Se ti dice Meloni Io ho già fatto il PDL È andata male Tu hai dovuto rifare Forza Italia Io ho fondato un altro partito Perché il PDL Ha provocato anche la sparizione di Fini Che fai micacci Eccetera eccetera E rifare un altro PDL Noi non ci stiamo Il giorno dopo Berlusconi E Meloni vuoi fonderti? E poi ha detto Non gli rispondo neanche più E ha fatto bene Silvio dice Ancora in campo E intendo rimanerci Nonostante tutto quello Che mi è successo In questi anni Nonostante le tante Inchieste giudiziarie Infondate Così il leader azzurro Oggi all'iniziativa Di Forza Italia Italia ci siamo Spiega ancora Berlusconi Rivolgendosi agli alleati È quello di costruire Un partito repubblicano Sul modello americano Ma costruisce un partito Sul modello italiano Quale modello americano? What's American? Ah Number one Ma basta Sempre con questa ammirazione Per gli altri Modello francese Tedesco Americano Ma basta L'Italia è un grande paese Non ci bisogna andare a imitare Nessuno A distanza di 10.000 km Comunque Il Berlusca poi Va avanti Dice Il mio appello Duplice Agli amici del centrodestra Salvini e Meloni Dobbiamo costruire da qui Al 2023 Quel partito unico Che rappresenti La maggioranza degli italiani E che dia stabilità Al governo di centrodestra Povero Silvio L'ha fatto per noi Lo fa per noi Lo fa per Lo fa per Matteo E Giorgia Lo fa per andare al Quirinale Io vi ringrazio E vi auguro Buon proseguimento Di giornata Arrivederci a tutti